La prefettura non ha rinforzato la presenza della polizia a Bitonto. Siamo impossibilitati a delegare totalmente alle forze dell'ordine il controllo degli assembramenti. Devo necessariamente ricercare la vostra collaborazione. Gli agenti hanno anche altro da fare che farci da babysitter. Sono queste le parole del sindaco Abaticchio, che ha parlato del numero degli agenti di polizia impegnati in questi giorni ad evitare assembramenti. Siccome gli agenti non ce li mandano, nonostante noi l'abbiamo chiesto, lo chiedono anche i comandanti di stazione, i commissari di polizia, per contrastare le organizzazioni criminali, do per presupposto che per inseguire i bambini che si mettono, se le vanno in giro, gli anziani che si vanno in giro senza mascherie, non ci siano neanche, perché non voglio pensare che non ci sono per il contrasto alle organizzazioni criminali e le bici elettriche che vengono utilizzate dai vettori per la commercializzazione della droga, e poi invece ci sono per inseguire le persone con le mascherie. Il numero delle forze dell'ordine a Bitonto è assolutamente non proporzionale, sia rispetto alla popolazione che soprattutto rispetto alle dimensioni del territorio. Il primo cittadino ha anche elencato le misure prese per evitare che si creano per le strade e le piazze della città folle di persone. Oltre a bar e ristoranti chiudono anche gli open shop 24, luogo di raggruppamenti per i giovanissimi. Anche la villa comunale e gli altri parchi saranno chiusi alle 21. Anche nei cimiteri gli ingressi saranno contingentati.